Ciao a tutti ragazzi, sono Lucchetto, benvenuti nel canale, anche oggi appuntamento con Monster Hunter. Andiamoci a fare sempre una caccia di mostri piccoli, molto facili, sono anche oggi da solo. Vediamo se l'altra volta abbiamo fatto il Gendron, facciamo i veloci drum, così ci vediamo davanti tutti i dinosauri piccoli che sono tipo dei raptor, ci rifulliamo gli oggetti e siamo pronti. Vediamo un po' la missione. Caccia il veloci drum, cliente spusino di Cocoto, mia moglie Corridore è andata nella foresta primordiale a raccogliere i miei funghi preferiti, ma è stata quasi attaccata dai Vibe Weaver, ti prego rendi la foresta sicura per lei, non ho letto, allo qua. Se torniamo indietro di uno, cioè cadiamo, allora prima, perché sto camminando piano? Perché non lo muovo. Allora, prima ci facciamo una bella bistecca, nostra palla pittura fidata, perché senza mappa, già ci perdiamo di noi. Se lo mettiamo la palla pittura, perdiamo anche il mostro e giriamo sempre a vuoto. E' che è qui. Ah, quindi, o lo aspettiamo qui. Ah, ma ne è il corno, mi sono dimenticato. Il cornino. Vediamo se è qui. Se non è qui, è nell'acqua. Sì, nell'acqua. Prendiamo indietro. O non l'ho visto io. Ah, aspetta ragazzi, c'è la mongolfiera. Se saluta la mongolfiera, mi dice di nuovo dove sta. Se quelli non mi rompono. Allora, di là, da sta parte dovrebbe stare. E' sopra qua. Sopra qua, possibile. E io vengo da lì. E com'è che non l'ho visto? Non lo vedo io, ragazzi. Eh no, è qua giù. C'è uno più giù di qua. E nell'aria più giù. Non c'è qui. Come si va lì? Allora, vanco più su. Qua, vanco più là. Ah, eccolo qua. Eccolo qua. Trovetto, sta giù. Ci buttiamo giù. Cambiamo zona, cacchio. Allora, sempre il primo montaggio è quello. Easy. Perché mi sa che ho due o tre volte. Devo saltare lì. Cioè, colpirlo con la nostra spada. Guarda, hai salito su. Ma sei un maledetto, tu. Maledetto, scendi. Ti aspetto. Ok. Vai. Ok, perfetto. Così si fa. Sta già arrabbiato. Dai, che è nostro. Vai, gattini. Dai, corri ancora. Corri, 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 corri. Sai che il veloci drone è un po' più debole del Gendron, quindi dovrebbe morire un po' prima, ma secondo me è uguale. Cambia solo un po' le resistenze, le debolezze. Oh, già mi si è rotta la testa. Quindi se io mo' salto e gli faccio una scarica, eh no. È troppo piccolo che non riesco a fare la scarica. E sì, infatti. È troppo piccolo, ragazzi. Anche lui schiva sempre. Ok. Abbiamo anche l'arte pronta, la super mega mossa, il super attacco che non prende mai. Almeno i nostri piccoli, i nostri grossi, prende sempre, ragazzi. Bomb in testa, niente. Ma ci mettiamo le medie pozzone, altrimenti qua facciamo una brutta fine. Non siamo morti fino adesso, però c'è sempre la prima volta, ragazzi. Quindi. E guardalo. Guarda, pure storditi. Guarda, guardate. Guardate come moriamo. Allora io mo' esco. No, 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 stiamoci qua. Ce la facciamo, perché anche lui è stanco. Vabbè, ok. Eh, ma io devo schivare. Devo schivare. Niente. Vabbè, è anche scappato, mi sa. Stai scappando? Sai tu scappando da me? Ok, lui sta un po' di lato. Dai che mi curi. Facciamo una po' la combo? No. Facciamo la spada. La scarica, stavolta l'ho preso, però siccome ha poca resistenza, vuole via prima. Guarda, non prende il secondo colpo. Vai, prima colpa, boom. E il secondo, sì. E il terzo, e il quarto. E poi vai normale. Vai, te l'abbiamo bloccato nell'angolo. Dai, non scappare. Adesso ti prendi tutte queste colpe di ascia, perché presenza infinita. Guarda, mi sta trasportando via. Guardate, la telecamera non trasportava via. Era morto. E ora dove sarà andato? Sarà andato di là. Eh sì. E dobbiamo fare il giro di due aree. Quindi poi ci dobbiamo buttare di nuovo giù. Ora ci buttiamo giù. Ok, ok. Stiamo imparando le zone, stiamo imparando le zone, ragazzi. Vabbè, questa era presa da anche Monster Hunter 4, però non è che mi ricordo tutte i percorsi a memoria. Chi li ricorda e chi no. Io faccio part che non mi ricordo. Vado molto assenso. Anche se con un colpo... Guardate, scappotta sempre questo. Non scappottare nel veleno. E guardatelo. Lo ci curiamo, perché bisogna essere sempre previdenti. Una curata in più non fa mai male. Sono solo 3 megapozioni. Non le stiamo finendo tutte. Niente, salto troppo in alto. Stia scappando ancora? Viene a dormire? Ma se lasciamo dormire, ragazzi. Perché qui è proprio easy e li facciamo la super mega arte. Lo aspettiamo qualche secondino. Vediamo nella mappa appena cambia colore e è andato a dormire. Quando adesso è rosso diventerà o blu o un altro colore. Niente, ci facciamo un giro qua con i veloci prei. Dai, che vai a dormire? Vai a dormire? Non dorme? Ok, ragazzi. Adesso è blu e sta dormendo. È utilissimo. È utilissimo il gattino che ci dà tutte queste informazioni. Quindi ora andiamo a colpo sicuro, ragazzi. Però c'è sempre uno piccolo che rompe le scatoline. Vai. Un, due, tre. E dai. One, due. Direzioniamo bene. E guarda. Vai esplosione. E no. Adesso che l'ho fatto l'esplosione è andata troppo indietro. E vabbè, ragazzi. Bam. Ecco qua. Se prendeva l'esplosione, ragazzi, moriva. Perché è tutto calcolato. Però è calcolato che lui deve scappare. Guarda, pure nel veleno. Ma se ci avveleniamo, prendiamo i pezzi. Mamma mia, chi so io che lo fanno cadere nel veleno? Mamma mia. E' morto anche quello piccolino. E prendiamo anche i pezzi di quello piccolino. Perché se fa tutto brodo per le armature, niente. Guarda, guarda che sfortunati, ragazzi. Sfortunatissimi, avvelenatissimi, però. Grazie, anche questa è fatta. Un bel inchino. Voilà. Grazie per aver visto questo video. E alla prossima, ragazzi. Ciao. Fai ciao? Ciao. Ecco qui. Salutiamo. Ciao. Ciao.